Il trofeo Memis arriva alla sesta edizione con numeri da record. Oltre 87 gli iscritti dai 13 anni agli over 65, appartenenti alla terza e quarta categoria maschile e femminile. Il torneo regionale, promosso dall'Accademia Tennis 1990 di Montelepre, giunta a un passo dal trentennale della sua attività, vanta l'appoggio della Federazione Italiana. Sulla superficie veloce del green set, i tennisti, ognuno animato da un sano agonismo, stanno incrociando le racchette di grafite attraverso un gioco atletico e potente, in linea col trend internazionale che vede primeggiare i picchiatori più che gli artisti del serve and volley. Nessun bisogno del giudice di sedia per i giocatori che si autogestiscono contando sul fair play reciproco. I vincitori delle finali del singolare maschile e femminile, che si terranno sabato 6 a partire dalle 10, riceveranno degli integratori e delle sedute fisioterapiche. Ma accanto al dato sportivo va sottolineata l'azione meritoria dei gestori del club, che nel corso di 30 anni sono riusciti a dare lustro a un contesto abbandonato e ora programma nel futuro con la costruzione di altri due campi, di cui uno indoor. L'artefice principale di questo miracolo è la pionedistica tenacia del maestro Mino Piu, decano del tennis court e talent scout, che oltre al timing e alla tecnica, ha sempre insegnato ai suoi allievi anche i valori sostanziali del game. La disciplina innanzitutto, l'educazione, il comportamento, la sportività, cattivi nel gioco, però sempre attenti a non rubare palline e ad essere correttissimi. Questo è il disegnamento che serve praticamente anche nella vita.